E tra i nostri sponsor, sicuramente lo sponsor che ci fa sentire più tranquilli e sicuri c'è sempre Aviva, che è dalla parte della sportiva ormai da tanto tempo. Cosa vuol dire essere sponsor dell'Unione Sportiva Legnanese? Ci sono dei valori che ci uniscono e questo è il motivo principale per cui volentieri accompagniamo l'Unione Sportiva Legnanese in questa sua avventura. Il valore principale è quello del lavorare, fare sacrifici per ottenere un obiettivo. Nel ciclismo questo è il passaggio principale e chiunque lavori nel nostro campo ha questi obiettivi come indirizzo primario. Il secondo valore è quello della sicurezza. Sicurezza per un ciclista vuol dire partire al mattino e tornare a casa dopo la sua gita in bicicletta tranquillo. Per un assicuratore vuol dire garantire ad ogni cliente, ad ogni cittadino, ad ogni famiglia di poter avere la sicurezza, di avere in ogni caso una protezione rispetto ai danni e ai problemi che possono capitare nel nostro mondo. E quindi rispettiamo le norme della strada, viaggiamo sicuri, pedaliamo sicuri insieme ad Aviva. Grazie a tutti! Grazie a tutti!